Ragion per cui, siamo invitati. Andiamo, forza, accompagniamo. Ah, vabbè, che significa siamo? Siamo, io e te. Oddio, Lorenzo, senti qua. L'egregio della dottoressa Claudio Melato. Le lettere, la fe, sono la democrazia di un paese. Non si preoccupi, signora. Tanto a me l'amistà simpatica. E questo è un edificio di morte, capito? Io non si vede che siamo arrivati tardi. L'aspetto stasera alle 20.30, tra l'altro da ora. E dov'è? A Napoli. Senti, papà, sono laureato. Io. Laureato in lettere, indirizzo spettacolo. Anche un bacio mi fa. Ma quale bacio! Le sono affezionato, siamo cresciuti insieme. Ma non ramo. Vabbè, ma noi siamo un buon retru. Ma usi di scime, è nata così, capito? Non voglio avere nulla a che fare, né con lui, né con la sua vita. Una stupe di conna. Amelia mi ha raccontato che ero un volcanologo. Uno scienziato un po' pazzo. A lui ci penso e io. Non parla di me. E' certo che tu stai con me, vai. Lo dico. Fai una cosa. Tu vai prima giù giù in Napoli e poi vai sul suo al mondo. Un programma mia. No. Süper. Luca. Un programma mia.